Musica Oggi è la giornata ideale per raggiungere una cima, anzi ne conquisteremo ben due. Siamo in Val Pusteria, vicino a Mon Guelfo, e esattamente ci troviamo a Tesido, il paese del sole, per la sua ottima esposizione. Pronti per partire? La nostra prima meta sarà la cima Lutherkopf, sentiero numero 31. Siamo a quota 2000 metri. Alle mie spalle potete vedere le montagne che sovrastano la valle di Anterselva. Musica Siamo in Val Pusteria, vicino a Mon Guelfo, e esattamente ci troviamo. Musica Musica Prima cima raggiunta, siamo alla croce di vetta della cima Lutherkopf. La cima si trova sullo spartiacque fra la valle di Anterselva e la val Pusteria. Dalla cima si gode di un bellissimo panorama sulla valle di Anterselva, sulla val Pusteria e su tutte le cime circostanti. Favolosa! Ora lasciamo la cima, continuiamo su Segnavia numero 31 e andiamo alla cima Durkopf. Musica 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 In lontananza si vede la cima. Da questo bivio ancora 20 minuti, ovviamente tutti in salita, per raggiungere la cima Durkopf, che potete vedere alle mie spalle. Musica 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 Secondo obiettivo raggiunto, siamo in vetta alla cima Durkopf, il punto più alto della nostra escursione. Ed anche da quassù la vista è spettacolare, alle mie spalle si possono vedere le dolomiti pusteresi. Musica 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 Grazie a tutti. Continuiamo il nostro giro e scendiamo alla Malga Tesido. Siamo arrivati alla Malga Tesido. Pensavamo di rientrare in slitta perché dalla Malga al parcheggio c'è una pista da slittina. Però purtroppo le hanno terminate, quindi gambe e spalla e si cammina! Siamo giunti a conclusione della nostra escursione ad Anello. Possiamo dire che questo itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche, però è un po' lungo. Il tratto più panoramico è quello tra le due cime. Vi ricordiamo che l'unico punto ristoro del giro è Malga Tesido. Purtroppo oggi le ciaspole non le abbiamo utilizzate perché c'era poca neve eppure ghiacciata. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento... Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!